Ci troviamo qui all'impianto sportivo Fulvio Bernardini, un impianto sportivo di proprietà di Roma Capitale, del Comune di Roma e quindi di proprietà di tutti i cittadini romani. E' qui che si svolge la quinta edizione di Roma Danza Aperta, una manifestazione dedicata alla danza di Roma che quest'anno si articola in due giornate. Abbiamo voluto fare oggi un Open Day di lezioni aperte, libere, completamente gratuite, di tutti i generi di danza, per tutti i livelli, per tutte le possibilità tecniche, gratuite per tutti. Tutti possono avere accesso a questo. Abbiamo portato quindi a Roma Danza Aperta a fianco dei tanti e tante insegnanti delle scuole di danza della città e non solo della provincia ma anche di fuori regione. Che oggi partecipano all'Open Day abbiamo portato anche delle eccellenze, come dire, tra virgolette, uso questo termine, quali Alessandro Tiburzi, ex primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma e come André della Roche, etuale internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Qual è per noi il valore di queste presenze? E' il valore intanto di dare accesso anche alle competenze più elevate, più eccellenti, uso questo termine sempre con molta cautela, a tutti. E quindi aver portato qui, a Pietralata, in una zona non centrale, in un quartiere, la possibilità di accedere a questo ha per noi un alto valore, un alto contenuto. Che è poi il contenuto e il valore che ha quello che accomuna, il denominatore comune tra la danza e lo sport. La danza in comune con lo sport ha molti valori, quali ad esempio il valore dello star bene, degli stili di vita attivi, della non sedentarietà, il valore di condividere spazi, tempi e luoghi, il valore di fare dei percorsi comuni, collettivi, che migliorano sicuramente il danzatore, migliorano lo sportivo, ma che sicuramente migliorano il cittadino. Alcune osservazioni su Roma Danza Aperta. Allora, abbiamo aperto le lezioni di questa mattina con due lezioni, una di acrobatica circense, molto partecipata e molto curiosa, e una di danza africana, una lezione molto energica, dove ad esempio hanno partecipato anche dei calciatori, che erano qui all'impianto Fulvio Bernardini, per fare delle partite di calcio. Hanno fatto la loro lezione, hanno partecipato un gruppo di ragazzi con abilità diverse e anche lì erano a fare questa vulcanica lezione di danza africana. Questo ha un valore molto alto e molto simbolico per noi ed è quello che della danza vogliamo mettere in risalto. La danza che unisce, la danza che ha dei contenuti sociali, la danza che ha questi valori e questa partecipazione. Grazie a tutti.